Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Filippo Turetta, noto nella comunità di Torreglia come un ragazzo introverso, ha attirato l'attenzione per il suo comportamento particolarmente chiuso e taciturno. Soprattutto dopo la separazione da Giulia Cecchettina d'Agosto, il mese in cui lei decise di lasciarlo. Simone, un compagno di liceo di Filippo, ha raccontato a Repubblica che Filippo era ossessionato da Giulia, parlando di lei costantemente se sceglieva di parlare. Tuttavia, negli ultimi tempi era diventato ancora più riservato. Simone rivela che Filippo sperava sempre in un ritorno di Giulia, ma lei era ferma nella sua decisione, portando Filippo a concentrarsi su come convincerla a tornare con lui. Questa ossessione per Giulia sembrava dominare completamente i suoi pensieri. Secondo gli amici, il cambiamento di Filippo era evidente, era diventato sfuggente e difficile da avvicinare. Un'altra conoscente, Lucia, un'ex compagna di scuola media di Filippo, descrive episodi di stalking e comportamenti inquietanti da parte sua, come seguirla e cercare di controllare il suo telefono. Nonostante queste azioni, è importante notare che Filippo sembrava essere consapevole delle sue azioni e non può essere definito matto senza un'adeguata perizia psichiatrica. Questi dettagli hanno contribuito a creare un quadro più chiaro della situazione intorno a Filippo Turetta e della tragedia che ha coinvolto Giulia Cecchettin.